Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Fio e questo è il canale della mela avvelenata. Partiamo subito con il video di oggi. La storia di oggi parla di Maribel Ramos, una donna splendida, una veterana dell'esercito e una studentessa che vive a Orange County. Un giorno il suo bel volto inizia a tappezzare i giornali, gli angoli delle strade e i notiziari. C'è scritto Woman Missing, donna scomparsa. Inizialmente non hanno alcun motivo di temere per la sua vita, almeno subito. Il caso viene classificato come appunto una scomparsa. Seppur una scomparsa che destra dei sospetti. Parto con il dirvi che anche se ci troviamo in America, Orange è una città deliziosa, pulita e ordinata. Definita tra le più sicure in cui vivere. Reati gravi contro le persone sono estremamente rari. E dunque ovviamente la scomparsa di questa giovane donna fa scalpore, insomma, rimbalza da una bocca all'altra e tutti ne parlano. E ben presto diventa proprio un vero circo mediatico. Mirabel Ramos scompare un venerdì, il 3 maggio del 2013. Semplicemente sparisce nel nulla dalla faccia della terra. Non si reca lavoro, non sente la famiglia e gli amici. E anche il suo coinquilino non sa cosa pensare. Tutti iniziano a preoccuparsi, prima in maniera debole e poi sempre più forte, sempre più forte. I cugini di Mirabel vanno per strada, distribuiscono valentini e il suo coinquilino Casey Joy, commosso, parla di lei al microfono raccontando come lei sia la sua migliore amica, la sua famiglia, non soltanto la sua coinquilina. Venerdì mattina è proprio Casey che si sveglia e vede che Mirabel non c'è. Non è pronta per andare a studiare, al college o al lavoro e infatti è proprio lui che dà il primo allarme perché appunto vive con lei e quindi conosce molto bene le sue abitudini e si rende subito conto che qualcosa non va. Casey chiama subito la polizia e avvisa della sua scomparsa prontamente. Ma quel venerdì c'è un altro fatto ancora più sconcertante che avviene perché Mirabel non si presenta ad una partita di softball con la famiglia, un evento molto importante per i Ramos e loro affermano che per nulla al mondo lei si sarebbe persa quel momento con loro. Quindi si preoccupano davvero tutti tanto. Ma lo vedremo poi nel dettaglio della sua scomparsa. In questo momento comunque nel dipartimento di polizia di Orange County inizia a circolare la notizia di una scomparsa di individuo sospetta. Come vi ho anticipato, chi conosce bene Maribel, la famiglia, il conquilino, i colleghi, gli amici, sanno che è impossibile che la ragazza sparisca così preoccupando tutti. La polizia dunque decide subito di indagare e di prendere su serio la scomparsa sin dalle prime ore. Come prima prassi iniziano ad interrogare chiaramente tutte le persone che conoscono Maribel e che la frequentano, inclusi i vicini di casa, ma tutti hanno un alibi e nessuno sembra rilevante e di interesse. Nel frattempo di pari passo provano a cercare Maribel anche se non sanno dove cercarla. Maribel è una donna molto amata, dipinta come indipendente, dal temperamento forte, ma allo stesso tempo una donna estremamente compassionevole. Ha una sorella che si chiama Lucero, non ho mai sentito questo nome, e una nipote a cui è molto legata, Giselle. È una donna sicuramente competitiva e ambiziosa, del resto ha fatto parte dell'esercito militare per molti anni e sa cosa vuol dire la vita marziale, soprattutto per una donna. Lei è molto determinata, sa farsi rispettare, sa trovare il suo posto nel mondo, ma sempre in maniera estremamente dignitosa e rispettosa. Quando inizia ad addestrarsi, all'inizio, pochi mesi dopo, partono gli attentati dell'11 settembre. Lei partecipa a due missioni e sta via per 18 lunghi mesi, comunicando con la nipote Giselle, principalmente a mezzolettere, e inviando dei libri colmi di dediche, perché Giselle è molto piccola. Le dice, ti amo, questo libro è per te, prega che io possa tornare a te, sana e salva, zia Maribel. Queste donne di famiglia sono veramente strettamente legate. E credetemi è molto bello, perché si respira proprio questo bel rapporto fra donne di famiglia, fra sorelle, nipoti, zia. Maribel torna a casa sana e salva e, pensate, rimane per ben otto lunghi anni all'interno dell'esercito. Appunto è una veterana. Dopo la seconda missione, però, lei decide che è il momento di cambiare vita. Non vuole più arruolarsi, ma laurearsi in diritto penale. È stanca della guerra, dunque si trasferisce in un appartamento a Orange County per frequentare l'università della California di Fullerton e anche per lavorare. Insomma, in quell'appartamento dovrebbe strutturarsi per lei finalmente una vita serena, ma non sarà così. Inizialmente condivide l'appartamento con la madre, perché la sorella vive altrove con la figlia, ma la madre si ammala e nel 2009 muore. Maribel non vuole stare sola, ha bisogno di appoggio, di sostegno morale, ma anche economico e quindi chiede alla sorella Lussero, che chiamerò Lucy, e alla nipote Giselle di andare a vivere con lei, ma loro non riescono. Lucy, infatti, ha una vita avviata. Giselle frequenta la scuola, è un adolescente, quindi dovrebbero trasferirsi in un'altra parte del paese. Però Lucy dice alla sorella, sono anche disposta a ripensarci, ma prima prova a cercare un conquilino. Se non lo trovi, verrò a vivere da te. Così Maribel, chiaramente comprensiva, ci prova, mette un annuncio e inizia la sua ricerca aiutata da Lucy. Moltissimi non sembrano fare il caso suo, perché sono troppo giovani e lei teme delle distrazioni, finché un profilo non è veramente interessante. Joy Casey è una persona più grande, cerca a casa per lui il suo cagnolino a cui è legatissimo, è un uomo che appare pacato, cordiale e istruito. Le due sorelle lo incontrano mentre lui è in California per un colloquio di lavoro e rimangono piacevolmente stupite e soddisfatte perché è un uomo per bene, appare per bene, gentile, una persona matura e lui spiega loro che cerca a casa perché ha fatto domanda per un lavoro a Huntington Beach. Joy generosamente racconta la sua storia, dice di essere solo al mondo, non ha una famiglia, è celibè, non ha figli, il che va anche a vantaggio di Maribel, meno distrazioni e gente per casa. Maribel infatti desidera la sua tranquillità, deve studiare, deve lavorare e è ormai prossima alla laurea e quello è il suo unico grande obiettivo. C'era una cosa che la madre le ripeteva sempre, diffidate dei più calmi, ma entrambe in quel momento si fidano e trovano Casey un tipo insospettabilmente tenero. Così inizia la convivenza e tutto sembra andare inizialmente davvero bene, ma dopo un paio di mesi Maribel e la sua famiglia si rendono conto che l'uomo è davvero profondamente solo. Infatti non conosce nessuno, nessuno lo cerca, nessuno lo chiama, non ha uno straccio di un parente, non ha nemmeno un amico e Maribel che è una donna molto empatica si sente in dovere di aiutarlo, di fargli compagnia, lui le fa tenerezza. Così inizia ad invitarlo fuori dalla stanza per fare due chiacchiere, poi per condividere un pasto insieme, poi per condividere un pasto con lei e la sua famiglia. Così Casey conosce gli zii e le zie di Maribel, persone più vicine alla sua età, e si integra, scarsa con loro, va d'accordo con tutti. Piano piano diventa molto amico di Maribel e passano davvero tanto tempo insieme. Ad esempio portano a spasso i cani insieme, si aiutano con la spesa, e Maribel lo invita sempre alle feste di famiglia. E Casey sembra veramente ora molto più felice. Infatti quando Maribel scompare, Casey racconta di non essere soltanto il suo coinquilino, ma il suo più caro amico e tutto torna nella narrazione. Però la polizia ha dei dubbi su di lui, per una ragione semplicissima. Casey è l'ultima persona ad aver visto Maribel prima della sua scomparsa giovedì sera, dunque per forza va interrogato con maggiore cura. Inoltre due vivono insieme. Durante l'interrogatorio di cui vi parlerò anche più avanti, Casey si dimostra molto pacato e sereno, affranto, ribadendo che anche lui è molto preoccupato per Maribel, che non è appunto soltanto la sua coinquilina, lo ripete lo sfinimento, ma è anche la sua migliore amica. Racconta di averla vista appunto l'ultima volta giovedì 2 maggio 2013, intorno alle 21, di aver chiacchierato con lei e poi di essere uscito rientrando intorno alle 22, ma a quel punto Maribel non era in casa. Non si preoccupa perché pensa che la donna sia uscita e va a dormire. Racconta in quell'ora, fuori casa, di aver guidato per fare un giro senza uno scopo preciso, fino a Tustin e poi di essere tornato indietro. Da lì non vede più Maribel. Il suo racconto non sembra molto convincente, ma la polizia in questo momento non ha alcuna prova per affermare il contrario. Gli agenti però iniziano a raccogliere un quadro più approfondito del rapporto tra Maribel e Casey e iniziano ad arrivare indizi di un movente sempre più strutturato. Solo l'estate prima, infatti, la sorella di Maribel, Lucy, riceve una telefonata da Casey. Sì, lui le dice che vuole essere l'uomo giusto per Maribel, quello con cui lei avrebbe dovuto desiderare dei figli e una famiglia. E Lucy ne rimane sconvolta. Non si sarebbe mai aspettata, infatti, questo da quell'uomo, che vedono come uno zio, uno zio anziano, non hanno mai avuto un'idea delle sue mire fino ad allora. Casey però è risoluto. Continua, le dice che loro hanno un'amicizia fantastica, ma che lui è anche innamorato di lei e che tiene alla loro famiglia, di cui ormai fa parte. Lucy prova a farlo ragionare. Gli dice, guarda, non ti manca nulla, ma non sei la persona adatta a mia sorella. Lo so, lei ha bisogno di un altro partner, ok? Casey rimane quieto, in silenzio. Dopo questa conversazione, però, Lucy rimane allarmata e decide di chiamare Maribel per confidarle quanto è avvenuto e per metterle in guardia. Le dice, guarda, chiarisci con Casey perché se lui la pensa davvero così e prova queste sensazioni per te, non può più vivere solo con te a stretto contatto. La situazione può farsi difficile e, ovviamente, iniziano le prime preoccupazioni. Maribel allora parla con Casey e poi ne ridiscute con la sorella. Le dice, guarda, ne abbiamo parlato ed è tutto ok, ho chiarito le cose. Mi ha detto di aver avuto solo un momento di debolezza, ma che è già rientrato. Questo, in realtà, però, è il primo campanello d'allarme. Infatti, da questo momento, il comportamento di Casey muta. Lui cerca di apparire più giovane, si fa un tatuaggio enorme solo perché a Maribel piacciono i tatuaggi, si sottopone a diverse operazioni di chirurgia estetica e lifting per apparire più giovane spendendo più di 10.000 dollari. Si veste come un ragazzo dell'età di Maribel, giovane e alla moda. È veramente ossessionato da Maribel e noi non potremmo neanche mai immaginare quanto e non ha assolutamente desistito, ma Maribel è stata molto chiara, non è innamorata di lui. E a questo punto gli inquirenti scoprono una telefonata che gli riguarda, ovvero una telefonata fatta da Maribel al 911 appena due settimane prima della sua scomparsa. È il 21 aprile del 2013, Maribel durante questa telefonata esprime una forte preoccupazione per l'atteggiamento del suo coinquilino che entro fine mese dovrà lasciare l'appartamento. Durante questa telefonata Maribel alterna dei momenti in cui è veramente molto fragile, a cui è veramente molto forte. Io questa telefonata l'ho ascoltata, non so se riesco a mettervela, ma magari provate a cercarla. Questa donna piange e verbalizza di avere paura e non è una che si spaventa facilmente. Quell'uomo l'ha spaventata perché lui ha scorto qualcosa. Inoltre in questo stesso periodo si scopre che Casey aveva smesso di pagare l'affitto a Maribel, lasciandole il carico di tutta la parte economica. Maribel prova a chiedergli di rispettare gli impegni presi, ma l'uomo a quel punto mostra una grossa aggressività. Così Maribel si rende conto che c'è qualcosa di sinistro in quell'uomo e che non lo vuole più vicino. Lo riteneva un amico, un uomo così pacato e gentile, ma non va più quella situazione, quindi gli chiede di andarsene perché la loro amicizia è finita, non è basata sul sincero. Al termine della conversazione Maribel aggiunge un qualcosa di davvero agghiacciante sinistro. Dice, io temo di dovermi chiudere in stanza fino a che lui non sarà andato via, perché non mi sento più a mio agio con lui. E voglio solo farvi sapere con questa telefonata che se dovesse capitare qualcosa è successo perché io ho cercato di difendermi. A seguito di questa telefonata c'è un secondo step, ovvero un agente si reca nell'appartamento e parla con entrambi, però Maribel decide di non sporgere denuncia formale perché è più interessata in quel momento a dare un segnale a Casey e a chiarire che a fine mese se ne deve andare e vuole che anche il resto del mondo lo sappia. Però il 2 maggio del 2013, appena due settimane dopo, Maribel scompare ed è proprio Casey a dare l'allarme. Viene vista fisicamente l'ultima volta da una telecamera alle 19.15 del 2 maggio, una telecamera fuori casa, mentre si reca a depositare l'affitto in una cassetta postale nel complesso di appartamenti in cui vive. Maribel è vestita comoda, con una canottiera e un pantalone da casa, e ha i capelli raccolti. Lei non sa che quelle sono le ultime immagini che rimarranno di lei. Ora, rientrata in casa, quella sera qualcosa deve essere accaduto. Probabilmente, anzi, certamente lo sappiamo, è scoppiata una violenta lite che avrà avuto come oggetto le solite tematiche. Casey prende tempo per non andare via, per restare addosso lei, e Maribel gli dà un ultimatum e gli dice basta, ora te ne devi andare, entro domani. Lui la insulta, lei si arrabbia, e appunto abbiamo delle prove certe perché contatta il suo amico Paul, mettendolo in viva voce. Paul a quel punto dice a Casey guarda, se non te ne vai, entro domani, non porti via tutta la tua roba, te la porto via io. E questa è veramente l'ultima telefonata effettuata da Maribel prima della sua scomparsa. Quindi il movente si sta strutturando sempre di più. Torniamo all'interrogatorio di Casey, al primo interrogatorio. Lui ammette, quando viene fuori questa cosa, di aver avuto una discussione con Maribel, ma che non era stato nulla di che, che alla fine aveva parlato con questo Paul e lei era tornata nella sua stanza. Lui era molto arrabbiato, quindi riuscito a sbollirsi, ma al suo rientro lei era andata via e lui non l'aveva più vista. Il giorno dopo, Casey, di buon mattino, contatta subito la sorella di Maribel, Lucy, e le dice che appunto Maribel non era incasata, che comunque lui non la vede e che è preoccupato. Le dice anche che ha avvisato la polizia, ma che è ancora troppo presto per una denuncia di scomparsa. Lucy, in quel frangente, pensa che è probabilmente solo una delle sue trovate per avere attenzioni e non gli dà troppa importanza. Però scrive un messaggio alla sorella. È venerdì e lei non risponde, ma Lucy non si preoccupa subito perché sa che la sorella è impegnata al campus, al lavoro. Inizialmente dunque la giornata scorre e in realtà è il comportamento di Casey ad irritare Lucy perché è pressante e secondo lei lui vuole solo sapere dove sia la sorella. Quella sera Lucy decide di uscire a cena con un suo amico, ma all'improvviso riceve una telefonata dalla moglie di suo cugino. E qui inizia la paura. La donna le dice di non agitarsi, ma Maribel non si è rappresentata alla consueta partita di softball in famiglia a cui tiene moltissimo e non è davvero da lei. Nessuno era riuscito a rintracciarla, l'avevano cercata e la cugina aggiunge stiamo andando tutti a casa da lei. Lucy ora è davvero molto preoccupata, piange e chiamano nuovamente la polizia. A casa non la trovano, anche se la macchina è nel garage e c'è una luce nella sua camera che è visibile dall'esterno. Ma appunto dall'appartamento non risponde nessuno, nemmeno chiaramente Casey che non è in casa. Arriva la polizia, quattro volanti, forzano l'ingresso. Lucy è convinta che all'interno troveranno la sorella morta dentro casa e sono attimi di dolore e di angosce estremi. Ma lei vuole sapere e quindi si fionda dentro la casa, dentro la stanza della sorella, ma per fortuna, almeno per il momento, Maribel non è lì. Dunque si torna a sperare. Però tutto è molto strano. Il letto è disfatto e Maribel non esce mai di casa disciplina militare senza averlo sistemato. C'è disordino ovunque e lei è sempre molto, molto ordinata. Lucy dunque pensa subito che il responsabile sia quell'uomo, Casey, che non si vede da nessuna parte. La polizia cerca di contattarlo, gli telefona molte volte, ma lui non risponde mai. Così iniziano di sospettirsi. Tutti la cercano, ma lui non c'è. E sapete dov'è? Lo scopriranno poi. Casey è lì, poco distante, seduto in macchina, mentre osserva e si gusta la scena con un binocolo. Lui ha osservato tutto, i parenti di Maribel che arrivano disperati e poi le luci rosse delle quattro volanti della polizia, ma lui rimane lì per un'ora intera a godersi lo spettacolo, finché appunto dopo un'ora scende dal veicolo e come se nulla fosse cammina fino all'appartamento. Sembra estremamente rilassato, come se fosse capitato lì quasi per caso. Sbuca fuori così e chiede che cosa stia accadendo. Lucy è una donna molto diretta e gli chiede dov'è mia sorella, ma lui non le risponde e non la guarda, le passa davanti come se lei non esistesse e va da un agente. Il 4 maggio, ovvero il giorno dopo la scomparsa di Lucy, Casey appunto viene ascoltato, come vi ho detto, ed è molto difficile sostenere questo interrogatorio per tanti motivi, soprattutto per gli agenti, perché Casey parla in un modo strano con un inglese stentato, non sempre comprensibile, fa continue divagazioni e sembra non capire bene la lingua e le domande poste. Ma in realtà, solo poco tempo dopo, gli agenti scopriranno che Casey si era trasferito in America da bambino e che parlava e comprendeva alla perfezione la lingua inglese. Chi lo conosce bene e visiona le registrazioni o ascolta gli audio è libito. Perché parla così? Perché usa quello strano accento? Non ha mai parlato così con noi. Ed effettivamente dall'inizio dell'indagine e dalla scomparsa di Maribel, in molti, anche tra i vicini, noteranno questo strano cambiamento drastico nell'eloquio di Casey. Parla proprio in un modo diverso, come se lui non fosse più in grado di parlare correttamente. Ma c'è un altro fatto agghiacciante che avviene durante questo famoso interrogatorio. Casey risponde di non centrare assolutamente nulla con la scomparsa di Maribel e anzi che anche lui vorrebbe tanto sapere chi l'ha portata via. Gli agenti però notano una cosa davvero agghiacciante. L'uomo ha dei graffi all'interno degli avambracci e glielo chiedono e lui sembra molto sorpreso. Gli chiedono come ti sei fatto quei graffi? E lui sembra non essersi reso conto di essersi graffiato nelle ore antecedenti. Lui ha davvero molti graffi. Sono segni di unghie e i detective sono appunto raggelati perché sono segni freschi e il rilievo sporchi ancora di sangue rappreso e si capisce benissimo che sono molto recenti. Casey però ha una sua spiegazione anche per quei graffi. Racconta che era andato a pescare in un parco ma che le lenze si erano impigliate in alcuni cespugli pieni di spine e così nel tentativo di liberare le lenze lui si era aggraffiato. Gli agenti chiaramente non gli credono ma non possono nemmeno affermare il contrario. Il 5 maggio due giorni dopo la scomparsa di Maribel la famiglia è veramente distrutta loro piangono in continuazione non riescono assolutamente a capacitarsi hanno bruttissimi sentimenti la sorella prova ad aprire alcuni account sui social pubblicando le foto della sorella Maribel nella speranza che qualcuno possa aiutarli aprono dei blog insomma cercano di fare il possibile nel liceo della nipote affingono volantini con le informazioni e la foto di Maribel e in tantissimi si danno da fare per lei dall'esercito ai marine ai volontari civili ai colleghi sono giorni di grande angoscia fino al 13 maggio nove giorni dopo e i giorni di angoscia continuano la famiglia organizza una grande fiaccolata per Maribel e viene ripreso anche Casey che però non si unisce al gruppo rimane lì ma in disparte seduto su un muretto con una gamba sollevata ad osservare apatico è un uomo molto strano ed è molto strano che abbia quell'atteggiamento perché naturalmente lui avrebbe dovuto unirsi alla famiglia di Maribel con cui era in ottimi rapporti che si poi interagisce molto anche su internet rispondendo a molti post riguardanti Maribel ma la cosa inquietante è che lui parla sempre di lei al passato e infatti alcune persone anche persone non della famiglia di Maribel ma semplicemente persone che si sono interessate al caso glielo fanno notare gli scrivono ma perché parli al passato e non al presente il 15 maggio poi è una data molto attesa da Lucy dalla sorella è un giorno molto difficile per la famiglia perché Maribel avrebbe dovuto presenziare ad un evento quella sera con cena organizzato dalla sua università e avrebbe dovuto ottenere un discorso e ci teneva veramente tantissimo Lucy allora prova in modo anche realistico e lo sa a recarsi nuovamente all'appartamento nella speranza che Maribel abbia portato via i suoi appunti o il computer per recarsi comunque la sera quella cena così importante per la sua carriera chiaramente come vi ho detto è un desiderio irrazionale non trova nulla però o per meglio dire è tutto lì e c'è anche Casey che è in casa e come un rettile la osserva immobile dalla porta e lei allora dà voce all'orrore che ha sulla lingua gli dice Casey se mia sorella stasera non si presenta a quella cena allora è veramente chiaro qualcuno l'ha uccisa ma Casey con voce emilienza le dice oh Lucy non dire così Lucy se ne va stordita ma poi il suo cervello si schiarisce per lei da quel momento è chiaro è stato lui la polizia nel frattempo ha anche sa le idee molto chiare ma c'è un grosso problema Casey è un avversario temibile scaltro intelligente dal controllo di ferro è un uomo istruito capace di apparire gentile e inoffensivo simpatico e ad ogni loro domanda o dubbio lui è capace comunque di fornire una risposta plausibile e assolutamente non oggettivamente contestabile insomma se è lui davvero responsabile come credono è stato molto abile a coprire le sue tracce e non è facile dimostrare il contrario non ci sono delle prove per poterlo arrestare la casa e il veicolo sono intonsi tutte le persone di interesse sono state ascoltate compresi anche gli ex fidanzati tutti hanno un alibi ad eccezioni solo di una persona appunto Casey però non possono dimostrare che lui abbia fatto del male a Maribel ci sono solo sospetti la polizia allora può solo fare una cosa a questo punto cercare di scoprire quello che sta dietro a quest'uomo che sembra quasi impacciato e gentile criptico nella speranza di individuare un suo passo falso scoprono che Casey Joy quando si trasferisce da Maribel e arriva a Orange provenendo dal Tennessee si trasferisce perché la sua vita è andata in crash in cortocircuito i suoi genitori sono appena morti lui ha perso il lavoro e ha anche litigato con la sorella per l'eredità infatti ha una sorella non è solo al mondo ma diventa solo al mondo la sorella racconta che Joy non è assolutamente un uomo amabile come vuol sembrare ma che ha un pessimo carattere veramente orribile irrascibile e violento a tal punto che la sorella ha ottenuto un ordine restrittivo contro di lui e non è una cosa da poco proprio per paura che lui le possa fare del male la sorella conclude la telefonata dicendo Casey è un mostro la polizia a questo punto organizza una squadra di sorveglianza per vedere tutti gli spostamenti che Casey Joy fa nelle 24 ore nella speranza che lui faccia un errore quindi lo pedinano lo osservano e notano che Joy si reca spesso in biblioteca dove è possibile noleggiare dei computer portatili gratis infatti lui non va per leggere ma proprio per utilizzare quei computer inserendo però i suoi dati e account con l'aiuto della biblioteca da remoto loro riescono a collegarsi ai computer che utilizza Casey e a verificare le sue ricerche in tempo reale tra le ricerche che Casey fa lui prova a capire se è possibile rintracciare un cellulare da spento e fa delle ricerche veramente sconvolgenti come ad esempio Digita quanto tempo ci mette un corpo umano a decomporsi tuttavia anche se ci fa arrabbiare anche questi elementi non sono così concreti per portarlo a processo o per incriminarlo perché tutti noi possiamo fare delle ricerche simili anche solo per curiosità Digita spesso il nome di Maribel per aggiornarsi sulle sue ricerche e scrive anche un commento sotto a un post che ho scritto deve tornare sana e salva perché mi manca ma tutto questo non basta vi ripeto sul banco degli imputati per farlo capitolare il 16 maggio del 2013 è un giorno ancora più particolare degli altri la tristezza di Lucy si taglia fette e la donna sente il bisogno di organizzare un momento di preghiera a casa di Maribel per avere un po' di conforto ma quel giorno entrando in casa vede che si che ha un aspetto davvero orribile contorto stravolto nonostante questo per cortesia Lucy lo invita a pregare con loro ma lui rifiuta rimane in salotto a fissarli con uno sguardo orribile torvo quel giorno c'è qualcosa che non va e quel giorno che si è tornato alla solita biblioteca si è connesso e ha fatto delle ricerche delle ricerche che fanno saltare letteralmente la squadra di sorveglianza sulla sedia loro telefonano subito al dirigente del caso nella centrale e gli dicono non crederai a quello che ha appena fatto che si infatti si era connesso per informarsi inizialmente sulle ricerche di Maribel come sempre e si era accorto che stavano organizzando una passeggiata di sensibilizzazione in un luogo preciso il Peters Canyon quello è un luogo molto caro a Lucy e a Maribel infatti lì c'è proprio un sentiero dove le due donne andavano spesso a camminare e questa passeggiata era stata organizzata proprio dalla sorella Lucy quasi come se qualcuno avesse suggerito a Lucy di fare questa cosa e questo manda letteralmente in tilt i nervi saldi di Casey 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 appare nervoso digita sulla mappa il luogo in modo frenetico zoomando e passa la vista satellitare poi zooma e zooma e zooma sempre di più fino a trovare un albero in un canyon isolato poi cancella tutto ed esce storto da lì veramente molto storto ma mentre lui era ancora intento a zoomare una squadra stava già correndo a rotta di collo verso quell'albero questo posto è veramente angosciante è inquietante se si pensa a cosa si sta cercando è una zona brulla e remota dove appunto l'unico riferimento è questo grande albero spoglio sul ciglio della strada iniziano a cercare e dopo appena mezz'ora circonnavigando quest'albero l'orrore si svela e restituisce qualcosa di profondamente amato un corpo umano Maribel Ramos potrebbe essere lì dico potrebbe perché aveva ancora fatta l'autopsia ma perlomeno non ho trovato un corpo su cui effettuarla quando inizia a spargersi la voce del ritrovamento di un cadavere Joy ha il coraggio di telefonare a Lucy alla sorella di Maribel e lei gli dice Joy mi porti lì mi basta solo vedere una sua mano una porzione di capelli o di pelle e saprò dire se è lei ma Joy le risponde ed è l'ultima volta in cui si sentiranno non posso Lucy a quel punto gli attacca il telefono in faccia la tristezza si è immediatamente trasformata in rabbia profonda il corpo viene identificato e chiaramente lei quando vanno a cercare che si l'uomo salta dalla finestra e scappa inizia un burrascoso inseguimento che termina con la sua cattura poco dopo e lui risponde sprezzante e dice è meglio per voi che abbiate buone prove viene interrogato di nuovo e non parla più in modo ostentato ma in modo molto chiaro continua a dire in un inglese perfetto sono davvero molto curioso di vedere che prove avete trovato davvero tanto ci sono dei momenti nel corso di questo lungo interrogatorio in cui l'uomo sembra quasi cedere ma alla fine non lo fa e non si assumerà mai la responsabilità della morte di Maribel il 17 maggio del 2013 viene formalmente accusato dell'omicidio di Maribel Ramos durante il processo loro non riescono a dimostrare come lui l'abbia uccisa anche se c'è il forte sospetto che lui l'abbia soffocata mentre Maribel dormiva chiaramente l'abbia presa la sprovvista Maribel si è sicuramente difesa alla fine lui è riuscito in qualche modo a farla soccombere questo perché lui era un codardo e lei era molto forte era una donna allenata era una militaressa e quindi avrebbe sicuramente avuto lei la meglio su di lui e probabilmente l'avrebbe anche ucciso per legittima difesa però Casey ha fatto un errore non ha resistito a sbirciare il luogo in cui l'aveva interrata sotto a quell'albero e questo errore si paga Casey infatti viene condannato anche se devo dirvi la verità non so il motivo viene condannato solo a 15 anni di carcere e questa cosa mi ha dato un grosso dispiacere perché 15 anni non sono niente Maribel è morta la sua vita è stata spezzata per sempre inoltre penso che questo uomo sia molto pericoloso non so dirvi di più la vita di Maribel si è spezzata e con lei la sua famiglia si è rotta per sempre inoltre la sorella è piena di sensi di colpa perché vi ricordate la sorella non era andata da lei non si era trascritta da lei e le aveva detto prova prima a cercare un coinquilino e aveva lasciato in qualche modo la strada libera a quel coinquilino assassino ma chiaramente non è colpa sua Maribel Ramos manca veramente moltissimo ogni giorno era ed è una donna estremamente amata e così noi la salutiamo e la ricordiamo grazie per avermi ascoltato queste forse sono le storie che mi spaventano di più proprio perché sono storie che raccontano di persone di cui ti figli di persone che appaiono normali e che invece appunto sono capaci di commettere questi atti solo per i propri bisogni e per il proprio desiderio di possesso vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti